Prima ancora del suo annuncio ufficiale da parte della Juventus, Ciagio Motta ha già informato la dirigenza che non conta su Federico Chiesa. Motta ritiene che Chiesa non si adatterebbe alla sua formazione e, per questo motivo, con sorpresa di molti, la Juventus cerca di vendere l'italiano di 26 anni. Chiesa è sempre stato un giocatore che ha attirato l'attenzione del mercato e, con la notizia che la Juventus vuole cederlo, molti club sono in contatto con la Juventus. Ma la Roma è in vantaggio rispetto agli altri interessati a Chiesa. Il presidente Dan Friedkin è disposto a fare un'offerta milionaria alla Juventus. Secondo le informazioni, la Roma è pronta a fare un'offerta di 30 milioni di euro per Chiesa, con un bonus aggiuntivo di 3 milioni di euro da soddisfare nel corso del contratto. La Roma prevede di incontrare i rappresentanti di Chiesa nelle prossime settimane per discutere i termini dell'accordo. E amici miei, sembra che l'arrivo di Motta possa davvero aprire la strada all'uscita di Chiesa dalla Juventus e a un possibile trasferimento alla Roma già in questa finestra. Cosa ne pensate di tutto questo? Scrivete nei commenti.